A Turingia Si nasce ma si diventa, è il nome di un progetto finanziato dal Ministero della Cultura per il rinnovamento generazionale nel teatro. Coinvolge quattro regioni italiane, Capofila e La Campania. A Turingia Attori si nasce ma si diventa, è una citazione. Bellissima, straordinaria, geniale, del grande Leo de Berardinis, scomparso ormai più di vent'anni fa, che appunto con attori si nasce ma si diventa, come dire, indicava una strada precisa, cioè quella dello studio, della preparazione. È un progetto che ci è stato approvato dal Ministero della Cultura, che è appunto ricambio generazionale e praticamente coinvolge il capofila di tutto questo, è appunto noi di ICRA Project, quindi La Campania con Napoli. Abbiamo aggregato nel nostro progetto, che è una rete che coinvolge le Marche, la Basilicata e la Calabria. Posso dire che il mio percorso, al di là di se farò poi l'attore o meno nella vita, in quanto uomo, col lavoro di Michele mi ha migliorato nella mentalità prima che nel corpo. La strada è scelta malgrado tutto, perché si continua a farlo con amore, con speranza, con tanta disciplina. Il senso del teatro è la profondità del lavoro e quindi i ragazzi che lavorano con noi vanno molto in profondità. Voi in questi anni, decenni, di ragazzi con l'Accademia del BIMO ne avete formati tantissimo. Sì, tantissimi, almeno abbiamo incontrato mille o più ragazzi. È iniziato online questo progetto. I primi mesi, tra gennaio e marzo, ci sono state alcune lezioni con alcuni nostri colleghi della Università e dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma. Da aprile, invece, finalmente abbiamo messo mano alla pratica. Abbiamo prodotto con questi giovani allievi, giovani attori, uno spettacolo, una performance spettacolo sul mito greco. A novembre ci è stato concesso lo spazio straordinario del complesso di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro storico di Napoli, quindi nel pieno del barocco. È un grande progetto che va appunto dall'8 al 20 novembre sulla Commedia dell'Arte. Quali sono le maggiori difficoltà per chi fa teatro, è giovane, gestisce piccole realtà, cerca di portare avanti piccole realtà? Avvicinare il pubblico, coinvolgere il pubblico, trovare una chiave diversa che non sia quella semplice appunto del teatro commerciale che è una strada che non porta a nulla sul lungo periodo. Siamo tutti diciamo in difficoltà in questo momento, però certo abbiamo cercato di aiutare in qualche modo, di coinvolgere in qualche modo in questo nostro progetto anche le regioni che fanno più fatica. È una rete dove ognuno ha la responsabilità di portare avanti questo discorso, di aiutare i giovani. Il Covid, la pandemia è stato un momento di dolorosa riflessione. Ci siamo resi conto di quanti limiti chiudano il teatro, sia da un punto di vista di comunicazione, sia di legislazione. Molte realtà hanno iniziato a prendere consapevolezza della necessità di imporre delle regole. E questo secondo me è stato un grande passo avanti. Molte realtà hanno iniziato a prendere consapevolezza della necessità di imporre delle regole.